Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io voglio dire proprio solo due parole di ringraziamento alla professoressa Cristiana Franco perché oggi ci farà una sessione speciale, devo dire che è stata esplicitamente richiesta da molte studentesse, da molti studenti, che si intitola Insegnare nella scuola pubblica italiana. La professoressa Franco è professoressa di lingua e letteratura latina da noi all'Università per Stranieri, insegna sia nel corso triennale che in quello magistrale ed è per noi, per la nostra comunità accademica, un punto di riferimento, almeno per me ma per tutti i docenti. Quindi sono molto contento di introdurla e le lascio subito la parola. Penso che farà appunto una presentazione, un po' una discussione poi siamo sempre aperti a domande, dialoghi e interventi che potete fare sia in chat che prendendo la parola quando appunto ci sarà il dibattito. Quindi prego Cristiana e grazie mille. Tino, buongiorno a tutti e benvenuti in questa aula virtuale. Dunque io cercherò di spiegarvi in maniera diciamo informale un po' come funziona la costruzione di un percorso di studi che possa portare ad acquisire le competenze, la formazione necessaria per accedere a una possibile carriera, un possibile mestiere che è quello dell'insegnante. Dell'insegnante, attenzione, nella scuola pubblica italiana perché partiamo subito con una distinzione importante. I nostri corsi di studio, tutti i corsi di studio, come avrete visto se avete un po' giracchiato su internet, vi siete un po' già informati, immagino di sì, e se no lo farete, lo vedrete. Hanno vari curricoli, per dirla all'italiana, altrimenti se la volete dire alla latina, visto che sono latinista, diciamo curricula. Cioè all'interno di ogni corso di studi ci sono dei piani di studio pensati per formarvi ad un certo tipo in particolare di mestiere. I nostri corsi di studio, per esempio, preparano anche a diventare una guida turistica esperta, oppure un promotore della cultura italiana e del made in Italy all'estero, oppure un mediatore culturale, un esperto di tematiche, di problematiche della coesione e dell'inclusione. Quindi i nostri corsi di studio preparano a tanti possibili mestieri e ciascun curriculum all'interno dei corsi di studio è specificamente pensato, disegnato per un certo tipo di sbocco professionale, quindi per un certo tipo di figura del mondo del lavoro. Ora, fra queste c'è anche l'insegnante di italiano sia, diciamo, agli stranieri e in questo caso, per esempio, una laurea anche triennale in lingua e cultura italiana, se ci sono opportuni esami di didattica della lingua italiana stranieri, può aprire certe porte all'interno di scuole private in Italia e all'estero, ma attenzione, quello che non fa così semplicemente acquisendo una laurea anche solo triennale o una laurea magistrale senza pensare al percorso costruito in un certo modo, quello che non fa appunto, a meno che uno non ci pensi per tempo, è farvi acquisire i crediti che sono invece richiesti per accedere alle classi di concorso che vi fanno diventare insegnanti di certe materie all'interno della scuola pubblica italiana, le scuole pubbliche. Quindi, quello di cui vi parlerò oggi io non è tanto come si diventa insegnanti, per esempio, di italiano come seconda lingua all'estero, anzi non è per nulla quello, perché non è questo il punto. Il punto che noi vogliamo affrontare è, semmai, come si diventa insegnanti di italiano come seconda lingua nelle scuole pubbliche italiane, classe di concorso di nuova istituzione che si chiama A23. Però, allo stesso modo, vi parlerò anche di come si possa diventare insegnanti nella scuola pubblica italiana anche di italiano, per esempio, a materie letterarie, non agli stranieri, bensì agli studenti di madrelingua italiana, perché i nostri corsi possono preparare, se pensati e, come dire, da ciascuno di voi, da ciascuno studente progettati a questo fine, a questo scopo, possono anche farvi, mettervi nelle condizioni di accedere le classi di concorso A12 e A22, che sono, appunto, le classi per materie letterarie nella scuola pubblica. Inoltre, scegliendo curricoli specifici, in particolare quelli della laurea magistrale in scienze linguistiche, potreste anche acquisire i crediti che vi consentono di entrare nelle classi di concorso A24 e A25, che sono quelle per insegnare, sempre nella scuola pubblica italiana, e di questo parliamo oggi, ma insegnare una lingua straniera agli studenti, e quindi insegnare inglese, insegnare francese, insegnare tedesco. Non solo, volendo, sempre se uno studente o una studentessa per tempo progetta il proprio piano di studi in un certo modo, potrebbe anche, alla fine del percorso di cinque anni, essere in grado di entrare nella classe di concorrere per la classe di concorso A54, che è quella che vi fa diventare insegnanti di storia dell'arte, sempre nella scuola pubblica italiana. Quindi, ricapitolando, sono cinque le classi di concorso per insegnare nella scuola pubblica italiana, alle quali, naturalmente, non potete tutti e cinque accedere a tutti e cinque, non vi sto dicendo che prendendo una laurea magistrale da noi, alla fine potete accedere a cinque classi concorso e poi capirete perché non è così. Ma a seconda della laurea magistrale che sceglierete e a seconda del curriculum all'interno della laurea magistrale che sceglierete e a seconda dei tipi di esami che metterete nel vostro piano di studi, potrete scegliere una o più di queste classi di concorso. Tipicamente succede questo. Succede che una persona può scegliere di diventare, per esempio, insegnante di italiano agli stranieri e quindi segue un percorso che lo porterà ad avere accesso alla classe A23. Oppure può diventare, può voler diventare insegnante di italiano, non agli stranieri, ma di italiano e lettere, insomma, insegnante di lettere, diciamo, quindi anche letteratura italiana, non necessariamente a studenti stranieri, ma studenti italiani e allora in quel caso potrà costruirsi un percorso che gli darà accesso a tutte e due le classi A12-A22. Queste due vanno in coppia. A12-A22 si possono, diciamo, si possono preparare insieme. A23 ci somiglia molto, ma ha delle piccole differenze da A12-A22, però se uno ha in gamba e riesce a costruirsi un buon piano di studi, può anche arrivare ad avere crediti necessari per tre classi di concorso. A12-A22-A22 A23, un po' più difficile, un po' più complicato, ma possibile. Tipicamente, invece, chi segue questo percorso non potrà, invece, accedere a classi di concorso che sono quelle per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola, perché quello è tutto un altro tipo di percorso. Quindi le classi, invece, A24-A25 possono andare insieme, possono essere preparate, ci si può preparare per tutte e due, ma sono un percorso molto diverso da quello che vi ho, invece, illustrato in precedenza, e cioè quello di italiano agli stranieri e materie letterarie. Quindi abbiamo, diciamo, tratteremo diversamente questi blocchi A12-A22 e A23, A24 e A25, che sono l'insegnamento delle, ripeto, delle lingue straniere, come inglese, francese, spagnolo, tedesco, nella scuola. E infine, a parte, ancora in un altro blocco, abbiamo la A54, che è la classe di concorso per insegnanti di storia dell'arte nella scuola pubblica italiana. E quello sta a parte perché è anche un percorso a parte. Quindi, quel che vi consiglio di fare è, se avete intenzione di diventare nella vita docenti di qualche materia nella scuola pubblica italiana, scegliere uno di questi tre blocchi, perché due blocchi è impossibile prenderli con una laurea sola. Quindi, o scegliete le materie letterarie, che possono includere anche l'insegnamento dell'italiano agli stranieri, o sceglierete le lingue straniere, o sceglierete la storia dell'arte. Spero che sia tutto chiaro. Una cosa che non ho detto all'inizio, ma forse avrei dovuto dirlo subito, l'ho data per scontata, ma l'ho esplicito adesso, è che per accedere, per diventare insegnanti della scuola pubblica italiana non basta una laurea triennale. Non basta. Per accedere a queste classi di concorso è necessaria una laurea magistrale. D'accordo? Quindi, mentre con una laurea triennale, se volete fermarvi lì e non proseguire oltre negli studi, potreste andare a insegnare italiano altrove, oppure in qualche scuola privata, siete, come dire, non è che sia impossibile, però chiaramente non siete così qualificati come invece è richiesto per un concorso pubblico che a quel punto doveste vincere una cattedra, vi darà un lavoro per la vita, insomma. Per questo ci vuole invece una laurea magistrale, sia essa la nostra laurea in competenze testuali, o invece l'altra, noi abbiamo due lauree magistrali, l'altra invece è quella in scienze linguistiche. Come si immagina, competenze testuali per la scuola è una laurea che prepara specificamente per le classi di concorso, può preparare, può preparare, comunque dà accesso alle classi di concorso del primo blocco di cui parlavamo, per cui materie letterarie e insegnamento dell'italiano agli stranieri. E anche storia dell'arte, sempre, purché, però, scegliate un curriculum che vi consente di acquisire i crediti che sono richiesti per l'accesso alla storia dell'arte che è A54. Va bene? Quindi, ricapitolando, competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la proporzione turistica, se scegliete il curriculum giusto e acquisite i crediti che servono, dà accesso, può dare accesso al primo blocco oppure all'ultimo blocco, quindi a 12, a 22, a 23, che sono lingua italiana e materie letterarie, e A54 storia dell'arte. L'altra, l'altra laurea magistrale è scienza e linguistica e comunicazione interculturale, dà accesso, diciamo, virtualmente a tutti i blocchi, ma attenzione che anche lì dipende molto da come costruite il vostro percorso. Perché, per esempio, se provenite da una triennale, perché il percorso va costruito tutti e cinque gli anni, d'accordo? Per cui è necessaria una laurea magistrale per accedere, perché senza una laurea magistrale, solo con una laurea triennale, non avete accesso a nessuno di questi blocchi. Lo ripeto ancora una volta, è meglio essere chiari su questo. Quindi dovete per forza studiare per cinque anni se volete andare a insegnare nella scuola pubblica, detta in soldoni. E chiaramente, a seconda del tipo di crediti che avrete acquisito nella triennale, perché ci vogliono cinque anni per acquisire tutti i crediti necessari, sarete orientati già verso un certo tipo di classe di concorso piuttosto che un'altra. Faccio un esempio. Se voi prendete una laurea triennale in mediazione linguistica e culturale e studiate tante lingue straniere e mettete invece pochi esami di storia italiano, letteratura italiana, ovviamente siete più instradati per andare a completare poi il vostro percorso per accedere alle classi di concorso che vi preparano a insegnare le lingue straniere nella scuola. Mi spiego, se invece fate sempre la triennale in mediazione culturale, ma nel vostro piano di studi mettete prevalentemente esami di italiano, grammatica italiana, didattica dell'italiano, sarete instradati già in un percorso che una volta finita la laurea magistrale vi aprirà le porte per la classe di concorso A23, cioè insegnamento della lingua italiana degli stranieri. Quindi, primo consiglio che vi do è cercare fin da subito, fin dal primo anno di laurea triennale, se vi iscriverete a una laurea triennale, cercare già di scegliere una di queste opzioni, uno di questi blocchi e impostare tutto il vostro percorso fin dal primo anno, fin dall'inizio, al fine di acquisire la possibilità di accesso a quel blocco. Va bene? Perché, chiaramente, se iniziate con l'idea di voler accedere alle classi di concorso per l'insegnamento delle materie letterarie dell'italiano e dopo tre o quattro anni cambiate idea, che cosa succede? Succede che dovete fare, succede che in alcuni casi è impossibile, perché dovreste fare talmente tanti esami in più che non basterebbero altri tre anni, quindi è assurdo. Oppure, sì, potrebbe essere possibile, ma anche lì a prezzi molto, molto alti, molto alti. Quindi, per come stanno le cose adesso e per com'è la normativa adesso, è molto consigliabile scegliere fin dall'inizio per quale di questi blocchi ci si vuole preparare e impostare fin da subito il proprio piano di studi, costruendolo a mano a mano, inserendo tutti gli esami che sono richiesti dalla legge, dalla normativa, in modo tale che già alla fine del terzo anno di triennale uno abbia messo, diciamo, da parte, abbia acquisito parecchi crediti che servono per l'accesso alla classe di concorso e negli ultimi due anni che farà di laurea magistrale acquisirà i rimanenti, quelli che ancora non ha. È sostanzialmente impossibile acquisire negli ultimi due anni tutti i crediti necessari per l'accesso alla classe di concorso. Perciò, perciò, altro secondo consiglio che vi do è quello di tenervi aperta questa porta, perché ve lo dico per esperienza. E qual è questa esperienza? L'esperienza è che molti studenti che studiano da noi si iscrivono all'inizio pensando di voler fare i mediatori culturali, piuttosto che le guide turistiche o lavorare nell'editoria. Poi a un certo punto dicono, ma insomma, però, anche fare un concorso per la scuola è un lavoro sicuro, un contratto a tempo indeterminato, non mi dispiacerebbe. A quel punto cominciano a dire, professoressa, ma come faccio per acquisire i crediti? E a quel punto tu gli devi dire, ma caro ragazzo o cara ragazza, i crediti sono tanti da acquisire e sono specifici quelli da acquisire per avere accesso ai classi di concorso. Ormai tu hai già fatto, faccio un esempio, tutti gli esami nella triennale, come fai ad acquisire? E non hai messo dentro neanche uno o due di questi esami che ti servono, come si fa adesso? Non puoi più farlo. Se addirittura questo discorso me lo fa uno al primo anno di magistrale, ancora peggio, perché gli dico, ma tesoro santo, ma come fai al primo anno di magistrale adesso ad acquisire in due anni tutti i crediti che sono richiesti per l'accesso all'insegnamento? Non si può fare. Quindi il secondo consiglio che vi do è di tenerla aperta questa possibilità in uno dei tre blocchi, perché potrebbe essere che nel corso della vita o anche nel corso della vostra permanenza all'università per stranieri, a un certo punto invece vi venga in mente che tutto sommato avere la chance di partecipare a un concorso per ottenere una cattedra in un liceo o alle scuole medie non è una cosa disprezzabile, a parte il fatto, e questo ve lo dico in amicizia, io ho insegnato per un po' di anni nella scuola ed è anche un bel lavoro. Vi devo dire la verità, è un bel lavoro, è un lavoro che può dare tante soddisfazioni, quindi io vi consiglio di tenerne conto, cioè di non partire con l'idea di ah ma tanto io non voglio insegnare, ah tanto io non voglio diventare professore o professoressa al liceo o alle medie, alle superiori o alle medie, perché prima o poi potreste cambiare idea e la mia esperienza mi dice che questo avviene molto spesso ed è, come dire, statisticamente abbastanza probabile che cambierete idea. Allora tanto vale, tanto vale, visto che prepararsi per i concorsi della scuola pubblica italiana non è che vi impedisca contemporaneamente di prepararvi anche per altro. Chiaramente chi sceglierà un percorso tutto orientato verso la mediazione linguistica è opportuno che si orienti, semmai, verso l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola, inglese, francese, tedesco, spagnolo, quello che vi pare, o anche cinese o russo. Chi invece voglia prepararsi per dire, per diventare una guida turistica sarà meglio che tenga in considerazione l'idea di prepararsi contemporaneamente anche per diventare eventualmente insegnante di storia dell'arte nella scuola pubblica. Così chi si prepara per diventare un promotore della lingua italiana all'estero e nel mondo forse può tenere in considerazione di costruirsi un percorso di studi che lo possa preparare anche a diventare un insegnante di italiano come seconda lingua agli stranieri nella scuola e via dicendo. Cioè a seconda del tipo di curriculum che sceglierete all'interno della laurea a cui siete iscritti, del corso di laurea a cui siete iscritti, quel tipo di preparazione vi porterà anche a potervi preparare per uno dei blocchi di classi di concorso nella scuola pubblica italiana. Quindi il mio consiglio è questo. Scegliete il corso di laurea che più vi sembra rispondere ai vostri talenti e alle vostre passioni e quando avrete scelto questo all'interno del corso scegliete il curriculum che più vi si addice e quando avrete scelto il curriculum che più vi si addice considerate che quel curriculum, se costruito con opportuna inserzione di certi esami, vi può dare anche accesso a una delle classi di concorso per la scuola naturalmente previa acquisizione di una laurea magistrale. Non prima dei cinque anni di studio, lo ripeto ancora una volta, nessuna laurea triennale, ma non solo da noi, in Italia in assoluto in qualunque università italiana, nessuna laurea triennale in nessuna università d'Italia vi dà l'accesso alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola. Ci vuole una laurea magistrale, assolutamente. Allora, spero che qui sia tutto chiaro e perché insisto tanto che è importante considerare fin da subito la possibilità di formarsi anche per uno dei blocchi di classi di concorso, perché acquisire una laurea magistrale è necessario ma non è sufficiente, come dicevo prima, cioè acquisire una laurea magistrale è indispensabile ma non basta, bisogna che fra gli esami che io ho sostenuto nel corso dei cinque anni della mia carriera, quindi nel corso dei tre anni di triennale e dei due anni di magistrale, io abbia superato certi specifici esami. Questi specifici esami sono di due tipi, distinguiamo. C'è un primo tipo di esami che viene chiamato trasversale, nel senso che vale per tutte le classi di concorso, questo è vero fino a un certo punto perché è vero almeno per le prime tre categorie, non è vero per la quarta, adesso vi spiegherò perché. Perché questi esami sono, più che esami, sono 24 crediti formativi, 24 CFU come si dice in gergo, crediti formativi universitari, che devono appartenere almeno a tre di quattro ambiti. Il primo ambito è la psicologia, un altro è l'antropologia, un altro è la pedagogia e questi tre ambiti sono veramente trasversali, cioè chiunque voglia insegnare nella scuola pubblica italiana, che voglia insegnare matematica, che voglia insegnare scienze, che voglia insegnare italiano, che voglia insegnare lingua straniera, che voglia insegnare storia dell'arte, chiunque deve avere acquisito almeno alcuni crediti in due o tre di questi settori. Ripeto, psicologia, e si capisce anche bene perché, no? Psicologia, pedagogia, antropologia, come dire, sono delle materie, sono delle discipline che preparano i futuri insegnanti, la pedagogia naturalmente ad avere una preparazione sulle teorie dell'educazione, la psicologia ad avere una preparazione su come come si affrontano eventuali problemi di natura psicologica che gli studenti potrebbero avere, l'antropologia prepara a confrontarsi, per esempio, con classi multietniche, no? Per cui prepara ad avere consapevolezza di come si può agire in maniera efficace e rispettosa in un ambiente multietnico, cioè in una classe, per esempio, in cui siano presenti studenti provenienti da famiglie con una eredità culturale diversa da quella europea. E questi sono i tre settori veramente trasversali, per cui, ripeto, chiunque voglia insegnare nella scuola pubblica italiana deve avere acquisito un certo numero di CFU di crediti formativi in questi tre settori. Ce n'è un quarto, poi, che non è proprio trasversale, perché invece questo quarto settore si chiama didattica della disciplina. Che cosa vuol dire? che in questo caso il tipo di materia in cui bisogna acquisire il CFU dipende dal tipo di disciplina che si andrà a insegnare. Metodologie e tecnologie didattiche della disciplina. Quindi, se io voglio insegnare italiano, dovrò acquisire CFU in metodologie e teorie della didattica della lingua italiana o della letteratura italiana. Se invece voglio insegnare, altro blocco, una lingua straniera nella scuola, allora dovrò acquisire CFU sempre nella metodologia e teorie della didattica, ma delle lingue straniere, non della della letteratura e della lingua italiana. Se dovrò, se vorrò invece diventare insegnante di storia dell'arte nella scuola, dovrò acquisire dei CFU in metodologie e teorie della didattica della storia dell'arte. Spero di essere stata chiara. Quindi, di questi 24 crediti trasversali devono essere acquisiti, questi 24 crediti trasversali devono essere acquisiti in uno di questi quattro settori, in questi quattro campi, i primi tre dei quali sono veramente trasversali a qualunque classe di concorso, cioè valgono per tutti. Il quarto invece, attenzione, che va scelto oculatamente perché, appunto, dipende dal tipo di blocco per il quale io che ho scelto e per il quale voglio essere formato. Ma non è finita. Adesso capite perché abbiamo organizzato un incontro sulla formazione, cioè preparazione all'accesso alle classi di concorso, perché la normativa è abbastanza complicata, quindi ci vuole un po' di tempo per capirla, per spiegarla, per assimilarla. In ogni caso, non vi preoccupate perché tutto quello che sto dicendo è adesso sul nostro sito di Ateneo. Se cercate di insegnare nella scuola pubblica italiana, poi magari qualcuno vi mette in chat il link, così potete poi andare a navigare e a studiarvi da soli tutto questo, a ripassarvi da soli tutto quello che avevo detto, dicevo non basta, non basta. Dunque, ricapitolando, abbiamo detto che ci vuole una laurea magistrale, quindi cinque anni di studio, necessariamente, che in questi cinque anni di studio dovete avere acquisito 24 CFU di quelli che dicevamo, cioè in psicologia, in almeno tre di questi quattro settori, psicologia, antropologia, pedagogia e teorie e metodologie didattiche, della disciplina. Non solo, non è solo questo. A seconda del blocco che sceglierete, devono essere presenti nella vostra carriera complessiva dei cinque anni anche altri crediti che si chiamano questa volta non più trasversali, ma caratterizzanti. Cosa vuol dire? Crediti che per l'appunto vi servono perché vi dovete formare in una specifica materia, cioè sono crediti che caratterizzano la vostra preparazione finalizzata a uno dei tre blocchi che abbiamo menzionato. Quindi, a seconda che voi scegliate il blocco numero uno, ossia italiano e materie letterarie, o il blocco numero due, ossia lingue straniere, o il blocco numero tre, ovvero storia dell'arte, dovrete superare certi tipi di esami che appunto si chiamano esami caratterizzanti. Ora, vi faccio un esempio che mi è molto noto perché io insegno latino, come il collega professor Baldi ha detto introducendomi, e il latino, per esempio, dodici crediti di latino sono necessari a chiunque voglia poi avere accesso al primo blocco di classi di concorso. Quindi, sia per insegnare materie letterarie alle medie, a dodici, sia per insegnare materie letterarie alle superiori, a ventidue, sia per insegnare italiano agli stranieri, nella scuola, è necessario aver acquisito nel corso dei cinque anni, dodici, almeno, almeno dodici crediti formativi in lingua e letteratura latina. E così, per esempio, per accedere invece al secondo blocco, cioè insegnamento delle lingue straniere nella scuola, è necessario, oltre tutto a quello che abbiamo detto fino adesso, superare esami, per esempio, di letteratura straniera. Cioè, voi dovrete, se volete insegnare spagnolo agli studenti italiani nella scuola, dovrete aver acquisito, oltre che CFU, crediti formativi in lingua spagnola, anche crediti formativi in letteratura spagnola. Come ormai avrete capito, se invece scegliete il terzo blocco, cioè storia dell'arte, nel corso dei cinque anni dovrete aver sostenuto molti esami di storia dell'arte, molti di più di quelli che nel normale piano di studi di un curriculum sono indicati, perché, appunto, avrete degli esami a scelta e gli esami a scelta saranno il, diciamo, l'occasione per voi per inserire quegli esami che vi servono per l'accesso alle classi di concorso. Ecco perché, naturalmente, gli esempi che vi ho fatto sono esempi, ma per accedere, per esempio, al primo blocco, non sono necessari solo 12 crediti di lingua e letteratura latina. Primo blocco, ripeto, sono le classi di concorso A12, A22, A23, ma 84 CFU caratterizzanti, di cui 12 in lingua e letteratura latina, 12 in letteratura italiana, 12 in linguistica italiana, 12 in glottologia e linguistica, 12 in geografia e 24, invece, tra storia greca, storia romana, oppure storia medievale e storia moderna. Quindi, come hai capito, 84 crediti caratterizzanti sono tanti, sono tanti, sono tanti esami. E quindi, per questo vi dicevo all'inizio, non vi riducete all'ultimo a pensare, ah, ma guarda, ma quasi quasi invece mi piacerebbe anche insegnare nella scuola, aspetta che faccio il concorso. No, perché se nel frattempo voi non vi siete costruiti il vostro percorso di studi sui cinque anni, avendo presente quali siano i crediti richiesti per l'accesso a quelle classi di concorso, vi trovate alla fine che non avete il percorso formativo adatto. Per questo vi dico, pensateci per tempo, programmatevi per tempo in modo tale che, se poi scegliete di non diventare insegnanti, pazienza, potete fare altri mestieri, ma se decidete di farlo, almeno avete acquisito la gran parte dei crediti che vi servono per accedere alle classi di concorso. Quindi, per farvi altri esempi, sono 84 crediti caratterizzanti per il primo blocco, 80 crediti caratterizzanti per un altro blocco, insomma, i numeri sono più o meno questi, sono tanti, un'ottantina di crediti formativi sono tanti caratterizzanti. Diciamo siamo tra i 70 e gli 84, ma anche 70 sono tanti. E quindi occorre assolutamente prepararsi per tempo. Un minimo di 70, adesso sto scorrendo per darvi il dato preciso, un minimo di 72 sono i caratterizzanti, fino a un massimo di 84. No, per la storia dell'arte sono solo 24 i caratterizzanti, quindi un po' meno. Però, diciamo che i casi più problematici appunto sono quelli dei primi due blocchi, perché 72 o 80 crediti caratterizzanti, o addirittura 84 crediti caratterizzanti, sono tantissimi. Se poi li sommate ai 24 crediti trasversali che ci vogliono, presto fatto il conto, 80, partiamo, diciamo il caso più problematico, che è quello degli 84 crediti caratterizzanti, più 24, fanno 108 se non conto male. Sono 108 crediti quelli lì che vi servono per accedere alle classi di concorso del primo blocco. Quindi non potete pensarci all'ultimo momento, perché 108 crediti sono un anno e mezzo di università, capite? E dunque, ripeto ancora una volta, il mio consiglio è quello veramente di pensarci con largo anticipo e soprattutto di tenervi aperta questa possibilità, anche se all'inizio potreste pensare che non è il tipo di carriera che vi aspettate di fare. Tenetevi aperta questa porta, perché vi dico nella mia personale esperienza, capita molto spesso che dopo tre o quattro anni invece voi cambiate idea. Se cambiate idea a quel punto e vi siete comunque nel frattempo attrezzati per acquisire almeno una parte dei CFU che servono, fate sempre a tempo a recuperare. Se invece non vi siete attrezzati per nulla, allora diventa quasi impossibile. Ecco, questa è la mia presentazione, spero di essere stata chiara. La materia è un po' appunto complessa, per cui non è semplicissimo spiegarla. Tuttavia vedo che in chat vi è stato indicato, ringrazio gli organizzatori per aver già messo il link alle pagine del nostro sito che spiegano in maniera molto dettagliata come si costruiscono questi percorsi e quindi a questo punto lascerei la parola a voi se avete delle domande di chiarimento e sono disponibile per rispondervi nel limite delle mie conoscenze e capacità. Sì, grazie mille Cristiana, è stata comprensibile, chiarissima e proprio come avevi detto una chiacchierata, quindi proprio anche prevenendo eventuali domande, dubbi e poi hai fatto molto bene, hai insistito molto su questo. È vero che non sappiamo il primo anno, il secondo, forse anche il terzo, esattamente cosa avremo e quello che vogliamo fare poi si modificherà. Però tenersi una porta aperta è fondamentale, perché poi appunto sono moltissimi crediti eventualmente da recuperare ad un costo anche economico impossibile da affrontare. Uno poi apprezza il significato dell'università pubblica spesso a posteriori, vedendo quanta ricchezza aveva per le mani mentre studiava e non se ne accorgeva, insomma, o comunque non ci pensava così tanto. Quindi mi sembra proprio, io almeno che faccio sempre confusione, ho capito finalmente benissimo i settori e quindi sono felice. Nonostante la mia compagna insegna a scuola, con grande joy, insomma, molto felice di quello che fa, mi spiega ogni volta, guarda così, guarda l'abilitazione, però vado in confusione. Abbiamo anche condiviso, sì, il link, vedo dei percorsi per l'insegnamento, quindi sì, appunto, questo era proprio un avvio. Poi, vedendo sul, cliccando sul link, si può cercare di orientarsi e poi potete scrivere anche a noi dell'orientamento per ulteriori dubbi e questioni, perché appunto siete sempre davvero seguitissimi. Questa è una caratteristica, direi, molto virtuosa della nostra università, che non siete lasciati allo sbaraglio. Siamo un'università piccola e pubblica e quindi davvero i casi singoli poi vengono seguiti, presentati nelle varie sedi, quindi su questo è davvero un vantaggio, soprattutto in questo momento. Salve, io volevo fare una domanda riguardo il mio percorso personale, è meglio se la faccio qua, va bene? Sì, diciamo, se concerne con la presentazione, volentieri. Se è poi molto personale, ne possiamo parlare in una stanza, diciamo così, vediamo. No, allora io volevo dire che sono interessata appunto a proseguire la strada verso l'insegnamento. Io mi sto per laureare qui a Unistrasi con il curriculum di mediazione linguista e culturale e ero interessata in particolare al secondo blocco che ha descritto, quindi l'accesso a 24 o a 25, quindi per le lingue. Vedendo che c'è appunto esame di letteratura come crediti caratterizzanti, mi chiedevo, cioè ho sentito, però vorrei anche conferma se c'è appunto possibilità di farli presso quest'atenea oppure no. Sì, grazie per la domanda, molto molto pertinente. Io non sono voluta entrare, volutamente non sono voluta entrare in dettagli, diciamo nei dettagli di ciascuna classe di concorso, però questa è una cosa importante e non a caso avevo menzionato le letterature come esempio. Proprio per eventualmente stimolare questo tipo di domanda, quindi la ringrazio perché capita proprio a proposito. Dunque, è vero, nel nostro Ateneo noi abbiamo moltissimi insegnamenti di lingua e traduzione, non abbiamo per il momento insegnamenti di letterature straniere, tranne in alcuni casi, per esempio alcune lingue vanno insieme, lingua e letteratura, ma per le lingue europee più richieste, cioè lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese e il portoghese, non abbiamo le letterature. Però abbiamo delle convenzioni con l'Università di Siena e con l'Università di Pisa che consentono ai nostri studenti di frequentare e sostenere presso una di queste due università a scelta, appunto, esami di letteratura straniera. Quindi questi esami non verranno sostenuti qui in Università per stranieri perché non ci sono gli insegnamenti, ma possono essere sostenuti o all'Università di Pisa o all'Università di Siena e vengono riconosciuti. Naturalmente bisogna presentare una richiesta sia alla commissione didattica di Unistrasi dell'Università per stranieri, sia alla commissione didattica dell'Università presso la quale si intende seguire un insegnamento e sostenere l'esame, quando la richiesta viene approvata e viene approvata perché la motivazione, diciamo, dell'acquisire i crediti per l'accesso alle classi di concorso è una motivazione più che valida, quindi in genere qualunque richiesta di questo tipo viene approvata dalle commissioni didattiche. A quel punto si può inserire nel piano di studi e si può sostenere l'esame presso uno di questi due Atenei. Ok, ho capito. Grazie mille. Allora, sempre riferito a questo specifico caso, visto che sono due annualità di letteratura, quindi nel caso sarebbe, faccio un esempio, io studio anche inglese, per esempio letteratura inglese 1, un esame, e poi letteratura inglese 2, un altro esame. In questo modo? Sì, in genere sì, che mi risulti, di solito sono 12 crediti per un primo esame di letteratura e altri 12 per il secondo. Comunque, fra l'altro, esami che in questo caso noi concediamo in genere anche di acquisirli in esubero, eventualmente, perché è talmente importante appunto acquisire questi esami che, insomma, è sconsigliabile naturalmente se si riesce ad acquisirli all'interno del percorso, meglio, però se si dovesse sforare, diciamo, in genere, ammettiamo questi sforamenti. Addirittura già nella laurea triennale e ammettiamo degli sforamenti al fine di acquisire crediti di letteratura. Va bene, la ringrazio allora. Prego. Anche io avrei una domanda molto simile a quella fatta precedentemente. Infatti, io sono in più superiore invece, però comunque sia… Mi sente? Mi sente? Sì, c'è l'epo. La sento, ma con un'eco abbastanza imponente. Un attimo, è proprio… Forse sì, perché… Proviamo? Adesso? Sì, meglio. Mi sentite? Sì. Ok, allora è bene? Sì, è comprensibile. Un po' meglio. Ok. Non capisco perché. Comunque, io sono in più superiore, però comunque credo che un giorno mi piacerebbe insegnare, però comunque sia non ne sono del tutto convinto e sicuro. Per questo invece di fare magari un percorso come lingua e letteratura, preferisco fare un percorso del genere, dove posso comunque sia studiare, dare esami, poi mi faranno accedere ad eventuali concorsi, però comunque sia se un giorno mi rendessi conto che non è la mia strada, ma magari sono comunque sempre in tempo a fare altro. Quello che chiedevo è, ma questi esami di letteratura sono fatti in una delle due università che ha accettato precedentemente lei, professoressa, ma comporta un costo in più, comporta un altro, comporta un tot di ore da fare con altri docenti, quanti se ne possono fare, cioè come funziona questo? Sì, grazie per la domanda. Allora, sì, trovo molto saggia la sua scelta, era proprio quella che suggerivo io, cioè quella di costruirsi un percorso formativo che prima di tutto risponda a quello che si ritiene essere il proprio talento, la propria passione, perché è importante insomma alla vostra età seguire già, seguire, poter seguire a vent'anni, a diciott'anni i propri talenti, le proprie passioni è importante, è importantissimo, è importantissimo per la vita. Nel contempo però bisogna tenere conto, e mi sembra che lei il suo ragionamento sia proprio questo, bisogna anche tenere conto del fatto che a un certo punto si potrebbe voler scegliere una professione sicura, magari non quella, che ne so, più esaltante, però che presenta come vantaggio invece compensativo il fatto di poter conquistare una posizione sicura. Quindi, siccome da noi è possibile costruirsi dei percorsi di questo tipo, cioè percorsi che siano da un lato costruiti per quello che si vorrebbe fare, si desidera fare, e nel contempo però tengano conto anche della acquisizione di quei CFU, o almeno in parte di essi, che poi mi consentono di accedere ai concorsi, è l'opzione migliore chiaramente, no? Perché si prendono insieme due opzioni. Quindi, prima considerazione, mi pare che lei abbia compreso perfettamente il senso di quello che si diceva. Per quanto riguarda la domanda che lei mi ha rivolto, allora, all'Università di Pisa c'è un limite di due esami, a quella di Siena invece no, è più, diciamo, è più aperta la cosa, ma non c'è nessun costo aggiuntivo, cioè sono esami che lei inserisce nel proprio percorso di studi, semplicemente invece di seguire i corsi da noi e sostenerli da noi, li segue e li sostiene all'Università di Siena, per dire. Quindi non ci sono costi aggiuntivi e proprio per questo c'è una convenzione tra l'Università per Stranieri e queste due università, perché la convenzione prevede proprio che, ma è anche viceversa, i loro studenti possono venire a sostenere, è biunivoca, diciamo, è reciproca, per cui studenti di Unisi, di Università di Siena e di Università di Pisa, se vogliono, possono venire a sostenere due esami da noi e i nostri studenti possono sostenere due esami da loro. Quindi non c'è nessun costo aggiuntivo, non c'è nulla di aggiuntivo, è come se fossero esami nostri, semplicemente. Infatti ho visto, mi corregga se sbaglio, nel piano di studi ho letto che ci sono, mi pare, sia al primo che al terzo anno degli esami a scelta. Questi esami di letteratura posso farli entrare in questi esami a scelta comunque? Sì, certamente, è proprio così. E tenga anche conto che, per esempio, nella laurea triennale, noi in genere concediamo al massimo nove crediti in esubero, se uno vuole aggiungerli ai crediti, ma per chi voglia invece acquisire 12 CFU di letteratura, ne concediamo altri tre. Quindi lei può o utilizzare gli slot per gli esami a scelta, e questo naturalmente è la cosa ideale. Però attenzione che lei potrebbe anche dire sì, vabbè, però io ho bisogno di acquisire anche, per esempio, voglio acquisire dei CFU in una materia che mi piace talmente tanto che, allora, a quel punto lì può, come esame a scelta, mettere le materie che le piacciono di più e che ci tiene tantissimo a studiare e tenersi l'opzione dell'esubero. Chiaramente l'esubero, in quel caso, comporta che lei si laurea con 12 CFU in più rispetto ai suoi colleghi, quindi le viene richiesto, diciamo, uno sforzo maggiore. Però in certi casi potrebbe essere l'opzione ideale, perché se faccio per dire, poniamo che la grande passione della sua vita sia, che ne so, la didattica, facciamo un esempio, la linguistica storica. Lei si accorge a un certo punto e fa un esame che per lei la linguistica storica è una scoperta meravigliosa e che vuole assolutamente approfondire la questione. Perché no? Allora a quel punto potrebbe decidere, sì, vabbè, non mi importa, farò, studierò di più, studierò di più, farò un esame in più, però io quello lo voglio fare. Allora è libero di occupare gli slot degli esami a scelta per la sua passione e tenersi l'opzione dell'esubero. Chiaramente nella scelta bisogna anche un po' tenere conto dei propri ritmi di studio, no? Cioè, se lei per esempio è uno studente molto veloce che riesce a tenere il ritmo di tutti, l'acquisizione di CFU per ogni semestre, fa subito gli esami, a quel punto io sarei la prima a dirle, ma senta, visto che lei comunque le piace studiare, è in perfetto ritmo con l'acquisizione di CFU, consideri magari di farne 12 in esubero. Se invece vede che va rilento, che la carriera è un po', che è un po' indietro, allora a quel punto le consiglierei di non mettere dei CFU in esubero invece di utilizzare gli slot. Quello dipenderà molto chiaramente dai suoi ritmi. Però un'altra cosa che ci tenevo a dire a tutti è questa. Come diceva il collega, professor Baldi, il grosso vantaggio di studiare in un'università relativamente piccola come la nostra è quella di poter dialogare, parlare con i docenti anche per chiedere consigli in itinere. Un po' di latino, lasciatemelo dire. Allora, quindi, come dire, in corsa, no? Voi potete a un certo punto rivolgervi al vostro docente tutor oppure a uno di noi, a qualcuno dell'orientamento, anche a me che sono coordinatrice dell'area didattica e dire, senta professoressa, ma io sto messo così, a questo punto ho acquisito questi crediti, cosa mi consiglia? Meglio che questi qui li metta a scelta o meglio? Il piano di studi è sempre modificabile entro certi limiti, però se uno ha delle necessità, delle esigenze sensate, siamo i primi noi a venirvi incontro e anche a consigliarvi su come raggiungere i vostri scopi con il, diciamo, con la massima efficienza. D'accordo, grazie ancora. E le volevo fare l'ultima domanda. Come lei aggiungiva prima c'è la divisione di caratterizzanti e trasversali. I crediti caratterizzanti sono quei crediti di pedagogia e psicologia, giusto? Sono quattro settori e bisogna acquisirne 24 in almeno tre di questi quattro, quindi faccio per dire, per essere più chiara, io posso acquisire, allora i settori sono psicologia, pedagogia, antropologia e metodologie della disciplina, metodologie didattiche. Io posso di questi 24 CFU acquisirne, che ne so, 12 in psicologia, 6 in pedagogia e 6 in antropologia, oppure 12 in antropologia, 6 in psicologia e 6 in metodologie didattiche, oppure, e tutte le combinazioni possibili, ma l'importante è che siano presenti almeno tre dei quattro, oppure 6, 6, 6, 6, 6 anche, eh? Posso anche scegliere di coprirli tutti e quattro, ma non è necessario che siano coperti tutti e quattro, devono essere coperti almeno tre su quattro e i CFU devono essere 24 in tutto. Ho capito, quindi nell'aternale, tipo mediazione linguistica per il contatto interculturale e l'acquisizione sociale, noto che ci sono degli esami di pedagogia generale, psicologia dello sviluppo e poi grammatica italiana, linguistica educativa, eccetera, eccetera, quindi diciamo che è anche l'ultima notropologia culturale, quindi già nell'aternale riesco comunque in qualche modo a prendere notevoli caratterizzanti. Sì, glielo confermo, in quel curriculum in particolare, quello che lei ha menzionato, è in assoluto il curriculum che contiene per sua natura stessa il maggior numero di esami cosiddetti, noi noi da noi li chiamiamo ISP, è quell'acronimo, no? Insegnamento Scuola Pubblica, che è un acronimo che ci siamo inventati noi per andare a mettere un bollino, diciamo, su quegli esami che sono validi, perché c'è un'altra cosa che non ho detto, ma perché non volevo entrare troppo nel dettaglio, volevo fare una presentazione generale che fosse più chiara possibile, allora non volevo entrare, diciamo, addentrarmi troppo nel ginepraio, ma visto che lei mi fa la domanda, allora attenzione che non tutti gli esami, faccio per dire, noi abbiamo tanti esami di didattica dell'italiano, ma non è detto, non sono tutti validi per l'acquisizione dei 24 CFO trasversali, solo quelli con il bollino ISP, il bollino ISP ce lo siamo inventati proprio per indicarvi che, attenzione, se volete fare un esame di didattica della lingua italiana, fate questo qui, non gli altri, perché questo è valido e gli altri no, e perché alcuni sono validi e altri no? Perché la normativa non solo richiede che l'esame sia di quel settore lì, ma richiede anche che il programma dell'esame sia in un certo modo, per cui non tutti i programmi sono uguali di quell'insegnamento lì, diciamo, quindi, ma voi con questa espediente del bollino ISP siete sicuri che quell'esame che voi mettete nel piano di studi, invece, sarà valido per l'acquisizione di alcuni di quei 24 CFO. La ringrazio, la ringrazio ancora, mi è veramente risolto un dubbio ammletico che non riusciva a dare una risposta, grazie ancora. Prego. Cristiano, scusami, avevo scritto, ha perfetto risposto, ho scritto in chat, ma solo perché mi sto spostando nell'altra presentazione sui doppi titoli. Grazie mille. Potete dire per le ultime domande, grazie davvero per tutto, insomma, grande. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Allora, io posso rimanere ancora qualche minuto se c'è qualche altra domanda, oppure se non ci sono altre. Sì, volevo fare un'altra domanda. Prego. Sì, allora, il mio percorso in realtà è un po' diverso dagli altri, nel senso che io ho fatto l'atriennale in un'altra università. Ho fatto scienze del turismo, quindi è L15, e quindi ho capito già che sarebbe molto complicato insegnare quindi nel pubblico facendo solo gli ultimi due anni della magistrale da voi. Quindi già partendo da questo presupposto. Ma, mi scusi, la fermo, perché dipende da quali esami ha sostenuto. Nel senso che, per esempio, mi verrebbe da pensare, se lei ha sostenuto tanti esami di storia dell'arte, è anche possibile che, per esempio, lei possa pensare in due anni di acquisire i crediti necessari per l'accesso alla A54. Ok. Sì, io ho fatto, ora non mi ricordo se uno o due esami di storia dell'arte, e poi ho fatto anche un esame di inglese e un esame di tedesco, quindi ho già fatto lingue. Quindi sì, qualche cosa c'è, quindi però magari dovrei controllare proprio meglio, non so a chi posso rivolgermi per vedere quanti... No, guardi, allora lei può anche rivolgersi a noi, chiaramente, però la primissima cosa da fare è andare a quel link che le abbiamo messo in chat e studiarsi per bene la nostra pagina web dedicata a questa, perché c'è tutto, c'è veramente tutto, cioè sono precisati i crediti trasversali, i crediti caratterizzanti, come ottenere i riconoscimenti nel caso di una persona come lei che viene da un altro Ateneo, ci sono i contatti con la commissione che si occupa di dare pareri su carriere già avviate per sapere quanti crediti e quali caratterizzanti possono valere, cioè veramente le dico, abbiamo lavorato tanto a quel sito, è molto ricco, quindi se lei se lo naviga per bene in tutti gli anfratti, vedrà che trova tutte le risposte ai suoi dubbi, lì vi compreso quella a chi mi devo rivolgere per ottenere i riconoscimenti, c'è una commissione apposita che anche può rilasciare dei pareri, c'è descritta anche la procedura attraverso la quale chiedere alla commissione eventualmente un parere, tra l'altro se lei vuole iscriversi da noi dovrà comunque spedire al dipartimento una dichiarazione di interesse allegando lo storico dei suoi esami e già lì la commissione le dirà appunto quali crediti possono essere valorizzati e quali no, però ripeto, lei mi dia diretta il mio consiglio, si navighi per bene il sito, alla pagina del sito dedicata a questo argomento, perché c'è tutto lì dentro, ci sono tutte le informazioni che le possono servire, poi chiaramente invece per i riconoscimenti e per i pareri dovrà rivolgersi per la dichiarazione di interesse, dovrà rivolgersi al dipartimento o alla commissione per i 24 CFU, insomma, però ecco cerchi di capire se gli esami che lei già ha sostenuto e quindi CFU che ha già acquisito possano essere valorizzati e questo basta che si guardi le tabelle che erano quelle che in qualche maniera molto brevemente io vi ho illustrato, no, ma nel sito sono disponibili con tutti i dettagli, quindi basta che lei guardi il sito, individui la classe di concorso per la quale vorrebbe prepararsi, vada a vedere quali siano i crediti necessari sia dal punto di vista dei, vabbè i 24 CFU sono necessari per tutti e quindi, ma i caratterizzanti vada a vedersi quanti di quei crediti caratterizzanti lei abbia già acquisito, per esempio per la storia dell'arte come ho detto sono 24, in realtà non sono molti, per cui può darsi che per quella lei ce la faccia, per le lingue la vedo un po' più difficile perché se ha fatto solo un esame di lingua straniera sono di più i crediti richiesti, sia di lingua sia di letteratura, però verifichi, ok, perfetto, e poi volevo fare un'altra domanda, io in realtà ero interessata sia alla classe di concorso a 23, quindi per insegnare italiano a stranieri, sia per a 24, 25, quindi per insegnare le lingue straniere, però quindi non è possibile fare entrambe? E' molto difficile E' passare un parte della sua vita a Siena, noi siamo molto felici se lei rimane con noi tanto tempo, però diciamo è difficile ed è anche sconsigliabile, però non è impossibile, dipende, allora se lei si stesse per iscrivere a una laurea triennale le direi non è impossibile, perché a quel punto lei potrebbe appunto in maniera molto diciamo accurata costruirsi l'intero percorso sui cinque anni in modo da tenere insieme le cose, sarebbe difficile comunque ma non impossibile, nel suo caso la vedo molto dura ecco, che in due anni lei possa Eh, non pensavo fosse così difficile, pensavo si potessero mettere insieme. E poi l'ultima domanda Beh, ma lei capisce che insegnare, cioè, sono proprio due formazioni diverse, eh? Eh, sì sì no, perché mi piacciono entrambe, però sì sì Anche a me sarebbe piaciuto fare l'astrofisica, però siccome mi piacevano anche le lettere classiche, tutte e due le cose non le ho potute fare, adesso scherzo, ma, insomma, sono due formazioni molto diverse, cioè, insegnare una lingua straniera agli italiani non è la stessa cosa che insegnare l'italiano come lingua straniera agli stranieri, cioè, sono percorsi che richiedono competenze distinte. Ok, e poi l'ultima domanda, ho sentito parlare anche della certificazione di Itals e Cedils, per esempio, e, quindi volevo chiedere, siccome ci sono dei pareri contrastanti, una certificazione come questa, quindi di Itals e Cedils, equivale alla magistrale? No, no, non equivale assolutamente niente. Lei per insegnare nella scuola pubblica deve avere una laurea magistrale. Ok, ok, ecco, quindi non è che... No, per forza, l'ho detto e lo ripeto, per insegnare nella scuola pubblica bisogna avere una laurea di secondo livello, una laurea magistrale. Ok, quindi di Itals e Cedils a cosa servono? Lei li ha già, possono essere valorizzati come CFU, con magari delle integrazioni, che le possono essere riconosciuti alcuni CFU, ma non sostituiscono una laurea, ecco, in nessun modo. Ok, forse allora servono di più magari nelle cose private? Ecco, sì, nelle scuole private sì. Cioè, qui, come ho detto fin dall'inizio, stiamo parlando di scuola pubblica. Capite bene la differenza, tra l'altro anche, è logico, cioè scuola pubblica vuol dire che una volta che voi avete una catedra avete un contratto a tempo indeterminato a vita. Non è un contratto di un anno o sei mesi in una scuola privata, eh. Vuol dire che voi entrate nel sistema formativo dello Stato italiano per il resto dei vostri giorni e che siete, vi vengono affidate generazioni di cittadini italiani da formare. È una cosa importante, è una cosa molto seria, molto, molto seria. Ok, quindi se... Bisogna prenderla con serietà, è opportuno che venga presa con molta serietà. Quindi se una persona finisce la magistrale, poi quindi non è che deve fare la certificazione di ITALS? No, 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 assolutamente. Se lei conclude il corso, se lei conclude i suoi cinque anni di studio avendo acquisito quei CFU che servono per accedere alla classe di concorso A23 più i CFU trasversali che servono comunque a tutti lei può iscriversi al concorso. Poi chiaramente deve vincere il concorso, ma insomma può fare il concorso. Questi sono i requisiti di accesso al concorso, che vuol dire che non è che quando voi avete acquisito tutti i requisiti avete la cattedra, no, avete i requisiti per partecipare al concorso che se lo vincete vi darà la cattedra. Ci sono altre domande? Sì, salve, professoressa. Prego. Allora, io volevo fare delle domande. Io sono al secondo anno di mediazione linguistica, in particolare il mixe e mi piacerebbe in futuro insegnare il cinese. Io già dal primo anno ho deciso di fare l'esame di lingua e letteratura da 12 CFU e non da 9. Quindi, essendo al secondo anno, questo secondo anno seguo con 12 CFU, il terzo anno anche. Quindi praticamente io utilizzo i nuovi crediti in esubero. Adesso mi chiedo, siccome nel mio piano di studi c'è psicologia, pedagogia e antropologia e quindi io arriverei a 21, i tre crediti che mi rimangono, come li posso prendere? Cioè, li posso prendere dopo, facendo per esempio l'altro esame, quindi metodologie. Le crediti che le rimangono di cosa, scusi? Non ho capito. Dei 24, perché avendo psicologia, pedagogia e antropologia arrivo a 21. Ah, gliene resterebbero fuori tre? Sì, esatto. Beh, allora qui le opzioni le ha tutti già acquisiti, i 21, no? Eh, no, devo fare l'esame di pedagogia e psicologia quest'anno, ho solo i 9 per adesso, di antropologia. Ma lei potrebbe per esempio chiedere un programma ampliato a uno di questi due? Però poi, magari al terzo anno, non potrei fare l'esame da 12 CFU in lingua e letteratura cinese, giusto? Perché essendo già... Ah, perché sono crediti in esubero. Sì, li ho aggiunti facendo... Sì, però, abbia pazienza, però lei è ancora alla triennale, no? Sì, sì, sì. Quindi, voglio dire, poi ha altri due anni per acquisire... Quindi in tal caso posso prenderlo o a parte o magari con i crediti della magistrale? Eh, certo. Cioè, se lei è già così avanti... Sì. Perché ha già acquisito... Sta già acquisendo tanti dei CFU che le serviranno per accedere alla classe di concorso. Ancora due anni davanti a sé, eh? Sì, sì, mi chiedevo se potevo farlo dopo, ecco, non... Ma certo, ripeto, questi CFU vanno acquisiti nel corso dei cinque anni. Perfetto. Quindi, se lei alla triennale ne ha acquisiti già così tanti, poi le restano altri due anni per acquisire quelli che le mancano, non è... Io non... Anzi, complimenti per la previdenza, diciamo. Eh, sì, ho l'idea abbastanza chiara all'inizio. Brava, brava, è una fortuna per lei questa, insomma. Però, appunto, ripeto, avendo ancora due anni davanti a sé di studio a disposizione ed essendo già così avanti non avrà nessuna difficoltà. Io penserei adesso a laurearmi in tempo per la triennale, avendo già acquisito tutti i crediti che le servono, che le serviranno come lei sta facendo, va benissimo. Si laurei in tempo e poi nei due anni successivi metterà insieme gli altri esami. Certo, lasciarne fuori... cioè, sono tre... i tre... poi dai, non è che può fare un esame da tre. No, lo farò magari da sei. Lo farà da sei e ne avrà tre in più, nessuno le impedisce di averne 28 invece che 24, 27 invece che 24. L'importante è che siano almeno 24. Va bene, ok, grazie mille. Prego. Professoressa, le tempistiche ci impongono di concludere l'incontro. Magari diamo spazio alle ultimissime domande e poi però dobbiamo lasciare perché poi se noi siamo impegnati con un'altra presentazione... Ditemi voi qual è il tempo massimo. Diciamo altri cinque minuti, giusto le ultimissime domande. Perfetto. Allora, ultimissime domande, diciamo che alle 11 e 20 più o meno stacchiamo. Va bene. Quindi se c'è ancora qualche altra domanda, sono disponibile. Sì, scusi, io avrei una domanda abbastanza specifica. Guardando i requisiti per la classe di concorso A24-A25 ho visto che servono 18 CFU in L-Lin01 e O-Lin02. Sì. Lei sta a dirmi però che materie sono esattamente perché cercando non riesco a trovare precisamente cosa significano. Non riesco a capire se ce l'ho già oppure no. Ah, no, ma quello, allora, dunque, L-Lin02 mi sembra che sia linguistica... Uno deve essere linguistica generale e l'altra linguistica italiana, se non ricordo male. Se vuole controllo, lì basta... Allora... Allora, L-Lin02 è didattica delle lingue straniere, per esempio. Didattica delle lingue. L-Lin, perché è linguistica. L-Lin01 è linguistica storica, quindi sarebbe glottologia. Glottologia. Comunque, lei, nei piani di studio ci sono i settori indicati, eh, dei vari insegnamenti. Accanto agli insegnamenti sono specificate le sigle dei settori. Ok, ho capito, no, è che pensavo che io fosse linguistica italiana e che era un esame che avevo appunto fatto, però invece è didattica delle lingue. Dipende, perché alcuni vanno... Vada a guardare... Dipende, è un po' intricata lì la faccenda, perché alcuni esami di linguistica valgono... Alcuni sono, per esempio, alcuni sono su L-Lin12, altri su L-Lin, mi pare, 02. Insomma, vada a guardarsi bene adesso, perché ogni insegnamento è accompagnato nei percorsi di studio dalla sigla del settore. Quindi lei faccia... e fa fede quello. Se lei si guarda le guide didattiche, eh, del corso di studi, lei ha guardate le guide didattiche? Eh, ora no, però, insomma, le cerco tranquillamente. Lei prenda la guida didattica e guardi a che settore corrispondono gli insegnamenti che ha già sostenuto. Ok, ok, grazie. Anche nello storico del piano di studi dovrebbero esserci indica, anzi ci sono senz'altro i settori. Altre domande? Professoressa? Sì? Io, praticamente, ho già frequentato l'Adriennale all'Orientale di Napoli e voglio iscrivermi ora alla magistrale al corso di Lingue Orientali per la Comunicazione Interlinguistica. E volevo scegliere cinese e spagnolo. La domanda nasce dal fatto che ho acquisito solamente 18 CFU in letteratura cinese, mentre in letteratura spagnola ne ho 24, quindi credo di essere coperta per l'insegnamento, con i 24 in letteratura. E poi 36 in lingua. Solo che per la questione cinese, alla magistrale ho lingua e letteratura cinese da 9 crediti. Adesso non so se... Allora, però guardate, queste domande che mi state ponendo adesso sono domande molto specifiche, su casi molto specifici. Allora, non è, diciamo, questa la sede per rispondere a quel tipo di domande. Io le consiglio di rivolgersi o al suo docente o alla sua docente tutor, o alla coordinatrice, al coordinatore del corso di studi, o ancora meglio, in questi casi che riguardano le lingue straniere, rivolgersi al docente titolare dell'insegnamento. Perché loro queste cose le sanno e quindi sanno anche meglio di me consigliarle come giostrarsi i crediti di lingua e di letteratura. Va bene, perfetto, grazie. Prego. Ci sono altre domande, sempre però per favore di carattere, abbiamo ancora un minuto, ma di carattere generale, non specifico e particolare come questi. Va bene, allora, se non ci sono altre domande, terminiamo qui questo spazio. Vi ringrazio per aver partecipato, spero che sia tutto chiaro, in ogni caso avete tutti i riferimenti per chiedere ulteriori deducidazioni alle figure che vi sono state indicate. Arrivederci a tutti. Va bene, grazie professoressa per la sua disponibilità, grazie ai partecipanti. Grazie.